Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Anche quest'anno Franco Picco parteciperà alla Dakar 2022 che inizierà tra qualche giorno, insomma fra un paio di settimane. Ora per le persone della mia generazione o di quelli un pochino più grandi naturalmente Franco Picco è una leggenda per cui non ha bisogno di presentazioni. Per quelli che sono però le persone che seguono il mio canale più giovani, ecco faccio un attimo un riassunto della carriera di Franco Picco che è un pilota ancora in attività. Franco Picco nel 1985 è arrivato terzo alla Paris Dakar e poi ha preso due secondi posti nel 1988 e nel 1989 sempre secondo. Inoltre ha vinto, arrivando proprio primo, due rally dei faraoni nel 1986 e 1990. Ora rally dei faraoni è il secondo rally più importante tra insomma tra tutti i rally che ci sono nel mondo naturalmente il più famoso è la Dakar. Ma diciamo che Picco diventa una leggenda proprio diciamo l'altro anno perché nel 2021 compie qualcosa di incredibile, di clamoroso ovvero partecipa decidendo quasi all'ultimo momento perché in realtà doveva partecipare all'eco race, un'altra gara che si che si tiene sempre in Africa anzi che ripercorre forse la rotta delle Dakar storiche ma che è sicuramente una competizione un po' più facile come come è strutturata, come è organizzata però l'altro anno a causa della pandemia questa manifestazione viene annullata e lui decide a un certo punto di partecipare, di partecipare alla Dakar all'età di 65 anni quindi acquista una moto o trova una moto adatta per poter una usquarna adatta a fare insomma questo genere di competizioni e partecipa. Ora il fatto clamoroso è che partecipa e riesce nonostante mille mille problemi insomma che ci sono stati anche delle delle rotture insomma dei problemi tecnici che ha avuto riesce a portare in fondo insomma la gara riesce ad arrivare al traguardo e nella categoria motul cioè nella categoria dove uno si deve fare assistenza da solo quindi immaginatevi arrivare a sera ecco dopo 10 12 ore dopo aver fatto dei tragitti 400 500 600 chilometri e poi oltretutto in che non sono dritti cioè che non sono delle dei percorsi ecco che si fanno diciamo così in scioltezza ma sono tutti tracciati anche difficili faticosi pietraie insomma ci sono dei passaggi veramente veramente duri e quando uno arriva alla fine ecco se partecipa a questo a questa categoria poi si deve fare anche l'assistenza alla moto cosa che ha fatto cosa che ha fatto il nostro franco picco in l'altro anno nel 2000 nel 2021 ora io l'ho detto già ho già fatto un video io ho già detto che secondo me ci sono lì tutti gli ingredienti per poter fare un film cioè un film di grandissimo successo di grandissimo e soprattutto di grandissimo respiro perché gli amanti no della delle moto sono in tutto il mondo non c'è soltanto l'italia e secondo me non è detto neanche che l'attore che dovrebbe impersonare o che spero impersonerà franco picco debba essere per forza italiano cioè potrebbe essere anzi meglio sarebbe se fosse un attore un attore di respiro internazionale certo di una nazione che ci abbia una cultura motociclistica ecco questo questo sicuramente allora qua ci sono c'è tutto no ci sono ci sono tutte le dinamiche un momento di crisi no che è quello che abbiamo vissuto che stiamo vivendo della della pandemia e c'è la voglia no la voglia di non arrendersi di una persona che nonostante tutto nonostante l'età e nonostante tutti i problemi anche problemi di cui lui in tante interviste ha anche parlato prima anche negli anni passati un po anche della della crisi no un po della di della crisi delle moto di una di una certa cilindrata no delle moto importanti insomma lui viene dagli anni in cui vinceva negli anni 80 dove insomma effettivamente si vendevano tante tante cose cioè il mercato italiano era sicuramente un mercato ricco ma comunque tutto il mondo diciamo era ricco l'europa il mercato europeo era sicuramente un un mercato e effettivamente gli ultimi anni sono stati faticosi poi c'è la questione anche dell'età 65 anni non non sono non sono pochi ecco nonostante tutto no cioè questa franco picco decide di partecipare e grazie all'esperienza grazie anche alla passione ma anche una passione distribuita alla perseveranza in tanti di tanti anni riesce a portare alla fine questo questo suo progetto questo suo sogno quello di terminare la dakar a 65 anni considerate che è stato sono soltanto due le persone che sono che hanno terminato gli italiani che hanno terminato la dakar l'altro anno ora la dakar come particolarità ha quella di essere una gara difficile da portare in fondo è chiaro che tutti i ride sono sono difficili sono sono gare dove la fatica no e i chilometri ci sono tante sono tanti per cui c'è la possibilità insomma di rompere di ci sono tanti veramente fatti che possono che possono succedere in questi in queste gare che durano che durano delle settimane la dakar è quella più difficile di tutte cioè la dakar è un'impresa soltanto riuscire a portarla a portarla in fondo io non me ne faccio non non ho nessun tipo di problemi a dirvi che nonostante io guidi la moto da sempre e comunque moto da fuori strada non credo di avere nessuna possibilità di poter giungere al termine di questa di questa moto neanche se fossi coadiuvato se fossi aiutato insomma da cioè da un team e da un team importante ora io anche in altri video ho dato dei suggerimenti alle case costruttrici non solo quello di puntare su un film cioè spingere e finanziare un film ecco che parlasse di franco picco perché è la storia di tantissimi ma anche quello di realizzare una una moto e soprattutto di partecipare e dare la possibilità a tante persone di partecipare a queste a questo tipo di competizioni dicendo che non è così importante in questo genere di competizioni il fatto di arrivare primo quanto è importante arrivare in fondo riuscire a portare a termine e questo queste queste gare c'è un altro punto naturalmente sul quale spesso che ho detto più volte che ho lamentato più volte il fatto di non riuscire a trovare mezzi di mezzi che possano raccontare questi questi fatti l'altro anno siamo stati fortunati ci sono stati degli youtuber che o comunque delle persone che partecipavano o chi accompagnava chi partecipava alle a queste gare che ha realizzato dei video e poi dopo sono stati pubblicati pubblicati e questo innanzitutto li ringrazio tutti non li nomino perché altrimenti rischierei anche di scordarmene qualcuno e ci ha dato la possibilità di poter seguire questa queste questa questa gara franco picco ha realizzato lui stesso dei video dove ecco raccontava proprio la difficoltà dove narrava proprio la difficoltà di questa di queste competizioni quindi la prima richiesta no che faccio e lo faccio naturalmente tanti giornalisti che sicuramente mi stanno ascoltando è quella di per quest'anno insomma io la speranza mia già l'ho detto l'altro anno è quella di avere la possibilità insomma di di seguire questa questa competizione almeno da parte mia c'è un grande interesse e spero di poterla seguire nel miglior modo possibile sarebbe bello poter avere dei giornalisti cioè dei giornalisti veri che potessero fare le interviste a ogni inizio gara e ogni fine gara insomma almeno per sapere quello che succede quelle che sono le problematiche quelle che sono quello che è il l'andamento no della della gara della gara stessa poi dissi anche che era importante proprio per questo motivo che le aziende partecipassero alla dakar parlai di aprilia che è comunque anche cagiva perché sono quelle aziende che hanno una storia passata nel mondo del mondo della dakar ma poi dissi ecco detti questo consiglio a tutte le aziende a tutte le aziende motociclistiche soprattutto italiane considerando il fatto di avere una persona come franco picco ma anche come tanti altri piloti italiani che magari non riusciranno o non hanno le caratteristiche al momento per poter vincere in assoluto la dakar perché ci sono dei pezzi veramente da 90 in giro ma tuttavia hanno la possibilità di poter terminare questa questa competizione è venuta fuori tra tutte le aziende insomma tra tutti questi tra tutte le aziende che io mi immaginavo immaginavo più cagiva immaginavo aprirle insomma gruppo piaggio mentre invece è sortita fuori la fantic ora io tra l'altro fantic ecco qui volevo anche farvi vedere questo è il mio cavallero ecco qua ero in questo proprio nel punto dove mi trovo ora in questo momento questo è il cavallero che avevo io quando avevo 14 anni un 50 della naturalmente della fantic per cui fantic è anche un'azienda di cui io sono affezionato ed è uscita proprio la la fantic che per la prima volta naturalmente ha già partecipato a competizioni di vario genere ma mai a ride mai a competizioni a rally come quello come la dakar ha deciso di trasformare una sua 450 e di creare una nuova moto che è la fantic motor x e f 450 rally in pratica ha realizzato quello naturalmente che è stato il consiglio mio cioè ha realizzato sulla base di una moto che aveva già l'ha trasformata e l'ha resa una moto da per poter partecipare alla dakar ora naturalmente nei video franco picco di parla di alcune differenze che ci sono tra la sua che è la moto ufficiale e quelle che verranno messe in commercio a circa 15 mila euro ma fondamentalmente a parte i materiali che mi sembra che siano in alluminio in alcuni nel nel tipo della moto che parteciperà a rally e in plastica per quanto riguarda le moto che verranno date poi che verranno vendute ma al di là di questo sono moto che possono essere utilizzate per partecipare poi alla dakar ma anche altre competizioni in pratica la formula che io avevo che io avevo consigliato è esattamente quanto avevo quanto avevo detto e secondo me è una mossa super super azzeccata tra l'altro questa moto questa fantic è anche molto bella io stesso sto pensando no di di acquistarla certo 15 mila euro non sono pochi ma sinceramente credo che siano anche una cifra congrua sinceramente credo che siano una cifra giusta visto anche quello che in base a quello che credo cioè che abbia dei contenuti importanti anche come da un punto di vista proprio delle delle sospensioni quindi abbia sospensioni di livello un motore naturalmente che sappiamo essere un motore molto valido e tutta una serie di componentistiche che non sono realizzate per numeri grossissimi per cui è chiaro che poi alla fine una certa un certo costo c'è e ci deve e ci deve essere per cui un prezzo assolutamente assolutamente congruo per cui all'età di 66 anni franco picco parteciperà alla nuova alla nuova edizione della dakar questa volta come pilota ufficiale per cui avrà dei vantaggi avrà la possibilità insomma di dormire un pochino più comodo ma soprattutto anche quella di avere un meccanico no che quando arriva gli fa la manutenzione della della propria moto quindi le possibilità saranno maggiori inoltre di poter arrivare alla fine rimane un rally difficilissimo inoltre mi sembra di aver capito che rispetto all'anno precedente ha anche avuto modo di potersi allenare un pochino di più so io naturalmente l'ho seguito sui social che è stato in arabia saudita insomma quelle in quelle zone lì ora non vorrei sbagliarmi comunque è andato ha fatto un sopralluogo si è un po allenato per quanto riguarda insomma per affrontare questa questa nuova questa nuova gara inoltre ha fatto nuovi altri ha fatto altri ride ha fatto altri rally quindi arriva a questo questa competizione sicuramente in uno stato migliore di quello che è stato l'altro anno quindi sulla carta noi sappiamo che lui ha più possibilità di arrivare di arrivare in fondo ora naturalmente i miei io sarò super concentrato no su franco picco poi naturalmente seguirò anche i primi come è giusto che sia della di questa di questa competizione e l'augurio insomma finale di franco picco è quello di portare in fondo questa questa gara io spero insomma che non voglia esagerare non c'è il non ce n'è motivo ha già fatto veramente tutto è già una è già una leggenda ha fatto l'impossibile ha realizzato l'impossibile l'altro anno quest'anno non secondo me deve soltanto concentrarsi nel portare a termine questa questa gara quindi non prendere se posso consigliare ecco troppi rischi naturalmente i rischi fanno parte della della gara stessa per cui impossibile evitarli però cercare di essere molto cauto cercare di sbagliare poco quindi è una una gara anche molto difficile da un punto di vista della navigazione dove serve anche avere una mente mente fresca no per mantenere una mente fresca per poter seguire tutte le tracce non perdersi e quindi ecco l'augurio che gli faccio io e quello insomma di cercare di affrontare quello questa gara in questo modo in questo con questo spirito la fanti che sicuramente riceverà una una grande attenzione hanno fatto un'operazione commerciale stupenda stupenda e l'augurio ecco per per quanto riguarda la fanti che è che possa veramente tornare a vendere tantissime moto se lo merita e queste moto sono quelle che stanno mancando sul mercato io sul mercato oggi vedo soltanto dei copioni vedo solo copie devo essere sincero anche caciva non mi ha entusiasmato con le nuove moto poi ne parlerò in un altro video mi sembra mi sembrano scelte molto conservative mi sembrano scelte che magari pagheranno come numeri ma non è niente di sconvolgente secondo me hanno cercato di copiare hanno cercato di intraprendere un sentiero già già stabilito fanti che ha avuto coraggio fanti che è quella quella azienda che sta prendendo una direzione sua una direzione giusta perché oggi secondo me mancano le moto in duro e quindi quelle che possono fare lunghi tragitti moto che hanno una protezione dall'aria ma moto che siano anche leggere questo sta mancando oggi abbiamo questa no abbiamo la tenere 700 oggi aprile ha fatto una moto che di fatto è andata dietro alla yamaka 700 sono sempre bicilindrici manca un mono cilindrico manca una moto che pesi 50 kg meno rispetto a questa quello è questo è quello che il mercato oggi quello di cui oggi il mercato ha bisogno e fanti che secondo me ha realizzato una moto la moto che serviva la moto giusta ora sta anche ai giornalisti sta anche a quelli che siamo io in minima parte come youtuber cercare di far capire che queste sono le moto da portare avanti queste sono le moto che si possono sfruttare cioè che non rimangano chiuse in un garage ma che possono avere veramente un ventaglio di possibilità molto ampio possono essere utilizzate per tutto per andare dal bar per fare la dakar per andare in viaggio fare un viaggio a caponord oppure in giappone o andare insomma con la moglie o con la fidanzata o con un amico in in vacanza oppure utilizzarla veramente per qualsiasi per qualsiasi scopo quindi queste sono questa è veramente la moto che ci vuole è una moto che non c'è sul mercato perché oggi non esiste una moto come questa a meno che non si voglia andare a comprare una moto da una una moto da tipo un 450 diciamo da cross o enduro chiamiamolo così un dual sport che e poi andare a lavorarci sopra mettendoci vari kit ecco andandolo a trasformare ok ancora una volta tanti auguri franco picco noi naturalmente lo seguiremo per quello che è per quelle che sono le mie possibilità speriamo insomma di avere tante veramente informazioni tanti video di avere tanto materiale no di cui di cui parlare e come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti